L'arresto del corriere a Taranto, qui poche immagini che scorrono in cui vediamo le fasi iniziali della registrazione che ormai è diventata virale. Mi avete inondato di richieste perché commentassi l'accaduto ed eccomi qua. La verità è che possiamo approcciare al video in due diversi modi, con due diverse prospettive. Il primo è l'approccio che definisco umano. Tu vedi un ragazzo, un corriere, un lavoratore che boh viene tirato via dagli agenti della polizia municipale e non ti spieghi il perché, non ti spieghi le ragioni di quella forza usata contro di lui. Ripeto, è un lavoratore, uno che addirittura stava in servizio e che verosimilmente stava andando o stava tornando da una consegna. Mettici poi le suggestioni che si vedono nel video e quelle create dalla viralità della notizia che ha fatto praticamente il Giro d'Italia in pochissime ore. E magari a quel punto dici ma come lo arrestano per un divieto di sosta oppure ma come lo arrestano per aver parcheggiato sulle strisce perché poi alla fine non si capisce nemmeno quale sia la contestazione iniziale. Gli articoli in giro dicono più o meno cose diverse tra loro. E quindi ti domandi pure, ma domani, che avrà fatto mai questo ragazzo per essere arrestato? Ma soprattutto per essere arrestato così. E allora è chiaro che tutto ti fa empatizzare col ragazzo e punti il dito sugli agenti intervenuti. E, come dire, magari umanamente mi sento di comprendere questo approccio, sia chiaro. Però io sono un avvocato e qui cerco di fare, poi magari non ci riesco a volte, però almeno l'obiettivo è quello. Cerco di fare una divulgazione corretta così che tutti possano avere una visione, un punto di vista obiettivo quantomeno sotto il profilo giuridico rispetto ad una certa vicenda. Quindi il mio approccio non è, non può essere quello umano, ma deve essere un approccio giuridico. E sulla base di questo approccio ho criticato e critico l'operato delle forze dell'ordine quando lo reputo scorretto. Perché trovo che sia conforme ai principi che cerco di portare nei miei contenuti e soprattutto per una questione di rispetto nei confronti di chi mi segue trovo corretto dare un'informazione obiettiva e non basata sul sentimentalismo o sul sensazionalismo. E in questo caso, proprio per l'obiettività che cerco di dare ai miei contenuti, posso dire una sola cosa. Come si fa a dire se c'è stato un abuso di potere se non sappiamo quello che è successo prima? Il video parte quando ormai la scena, la vicenda è già nel vivo quando cioè è già cominciato il prelievo forzato del ragazzo e quello che succede dopo è una procedura d'arresto e una procedura d'arresto impone agli agenti, alle forze dell'ordine un certo grado di forza per vincere la resistenza dell'arrestato questo mi sembra ovvio. Ed è altrettanto evidente che sia molto semplice lasciarsi suggestionare, darle urla disperate, dalla gente intorno che empatizza con il ragazzo dal fatto che sia un giovane e che soprattutto sia un giovane lavoratore in servizio. Ma noi non sappiamo che cosa ha fatto prima e se è vero che tutto nasce solo ed esclusivamente, come ci raccontano i giornali, da un divieto di sosta o da un parcheggio sulle strisce. Se è quella ed è solo quella la ragione e dovesse emergere, bene, arresto illegittimo, abuso di potere enorme, grande quanto una casa ed io sarò qui a censurare quel comportamento. Ma fino a quel momento, se non emerge questo dato, posso solo dire che a parte la forza fisica necessaria per l'arresto, che per me tra l'altro non ha esorbitato dei limiti, non c'è nulla di abnorme o scorretto. Per il resto, quindi, sulla legittimità dell'arresto e quindi sull'abuso di potere possiamo fare soltanto ipotesi allo Stato, nient'altro.